Un premere di frattemolico Scampo! Bene! Ostre! Presta! Presta! Il pannello vostro lo vedevo Sì, anche ieri sera quando te guardavi, ti ricordi? Quinto sull'antidità è il primo del primo del primo Un copiacino è troppo Belli tu, dammi il ciclo Grazie a tutti Buona parte Buona domanda Buona parte Buona parte Spera, sei a posto dai tu. Spera. Ciao, sono qui al Meeting of Style. Spera, sei a posto. What did I do? Well, man, uh, it was, it was quite the same, you know? It was quite the same in the school. But first, going to my house there was a bridge. Icahuessi sono i primi a fare graffiti in Puerto Rico Pionieri, sai? E ho visto queste palle e poi ho visto alcuni persone nella mia scuola che avevano graffiti, le tizze e i bambini Ho iniziato tagging, ho detto a un amico Hey, voglio fare un tag, tagging, non sapevo il nome e noi facciamo trovare alcuni nomi nel diccionario e poi dicevo, ah, cosa d'you think about it? E poi dicevo, ah, cosa d'you think about this one? E poi dicve, ah, io like that E' ora come iniziato, tagging, bombing Ho mai racconto questa storia and the one that made get together the whole crew his name is Prince, he paints he gets back to paint right now we used to bomb cavas and one night I said hey let's go bomb we go bombing and we have a lot of cans I already had seen this